Vogliamo una costiera sicura e l'imperativo che parte proprio dalla divina che ha promosso su impulso dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada costiera amalfitana un incontro dibattito sulla sicurezza stradale. Costiera sicura, strade, mobilità, gestione di flussi di traffico in programma per venerdì 3 marzo alle ore 17 presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino a Salerno. Dopo l'incidente dello scorso 4 dicembre in cui ha perso la vita il giovane Massimo De Rosa, padre di una bimba di 3 anni, purtroppo abbiamo dovuto constatare il verificarsi di altri sinistri per fortuna senza conseguenze mortali. I continui rischi che si corrono sulla strada statale 163 amalfitana vanno ridotti adottando necessariamente provvedimenti tempestivi, soprattutto in previsione del gran numero di turisti che affolleranno presso le nostre strade. Così il presidente dell'Associazione Salvatore Gagliano che ringraziando il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri per aver accolto l'iniziativa auspica che ci possano essere maggiori controlli in ogni comune magari partendo da iniziative che già in passato hanno prodotto ottimi risultati come la presenza degli ausiliari del traffico. Una presenza che però venga prevista da Pasqua a fine ottobre e non soltanto nei mesi più caldi. L'Associazione per la tutela delle vittime della strada costiera amalfitana non intende sostituirsi a nessuno, questo va chiarito. Restiamo fiduciosi che a livello istituzionale ciascuno eserciterà il proprio ruolo come sempre e così continua Gagliano in una nota. Ma da cittadini di una terra che ha già dovuto piangere tanti giovani è nostro dovere e intento principale tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, evitando che la costiera amalfitana possa essere scambiata per un circuito motociclistico. Ci auguriamo, ha continuato il Presidente dell'Associazione per la tutela delle vittime della strada della costiera amalfitana, Salvatore Gagliano, che l'incontro possa registrare la più ampia partecipazione delle istituzioni, del Presidente della provincia Franco Alfieri, del Prefetto, del Questore, del Colonnello, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Regione Campania, del Direttore dell'ANAS, della SITA, dei Parlamentari eletti nel Collegio della Costiera, di tutti i sindaci responsabili degli uffici della Polizia Municipale, oltre a quanti potranno dare un contributo per rendere la costiera amalfitana più sicura, obiettivo che si può raggiungere soltanto se tutti procedono nella stessa direzione.